Oggi lunedì 2 novembre 2020, la nostra troupe è all'interno del ristorante La Loggia, al piazzale Michelangelo a Firenze, ospite del nostro odierno salotto, la fotografa Manuela Gualtieri. È una delle prime volte o delle poche volte che abbiamo colpevolmente come ospite una fotografia, colpevolmente ovviamente da parte nostra, perché forse abbiamo trascurato una forma di espressione artistica che negli ultimi anni ha avuto un impulso enorme grazie alle nuove tecnologie, soprattutto ai telefonini che stanno acquisendo una qualità sempre migliore e quindi soppiantano in molti casi le vecchie macchine fotografiche. Molti possono utilizzare questo strumento che abbiamo ormai tutti nelle nostre tasche in qualsiasi momento del giorno, quindi quando viene l'ispirazione, se c'è un evento al quale partecipiamo, tutti ci sentiamo un po' fotografi e avendo questo strumento a disposizione pensiamo di poter esprimere anche le nostre sensazioni. Per parlare della tecnologia, per parlare di cos'è la fotografia, oggi abbiamo invitato Manuela Gualtieri all'indomani della chiusura della sua mostra fiorentina allo spazio espositivo San Marco, una mostra che ha avuto un ottimo consenso di pubblico e la fotografia Manuela è sempre più presente nelle mostre d'arte. Prima fra i fotografi e i pittori e gli scultori c'era proprio una staccionata, ognuno viveva nel suo orto, nel suo orticello, possiamo dirlo, perché era anche molto riduttiva questa visione. Oggi invece queste forme di espressione sono sempre più vicine, anche perché i pittori usano in maniera importante oggi la fotografia e molti fotografi fanno delle fotografie che col Photoshop diventano dei veri e propri quadri. Allora, tu che vivi la fotografia da tanti anni, che la frequenti, anzi io partirei proprio da lì. Com'è nata la folgorazione? La voglia di dire, non scatto più fotografie da fotografo della domenica quando si va a fare una gita con i parenti o gli amici e si vuole immortalare un momento, ma voglio che questa cosa diventi uno strumento per esprimere la mia visione del mondo, le mie sensazioni, la mia anima, i miei sentimenti. Si parte, come tutti, della mia generazione con fotografie che sono di uso familiare in bianco e in nero con la pellicola, erano quelle anche che costavano meno, poi si passa al colore e alla diapositiva aumentando progressivamente anche il numero di scatti che si fanno, soprattutto quando siamo in viaggio. Poi con l'avvento del digitale ci si rende conto che le certe possibilità sono enormemente incrementate perché a parte i grandi fotografi che hanno sviluppato e stampato da soli le proprie fotografie e quindi sono riusciti a fare anche delle vere opere d'arte proprio nella camera oscura privata. Effettivamente l'avvento del digitale ha dato la possibilità a un pubblico molto vasto di elaborare le proprie immagini e di arrivare anche a delle composizioni con un significato ben diverso da quello che poteva essere la singola immagine anche scattata, appunto, come dicevo, in diapositiva. Effettivamente si possono osservare molti esempi di questo che sto dicendo in quanto ci sono molti fotografi che utilizzano proprio la tecnologia digitale per costruire qualcosa di diverso rispetto a quello che rappresenta semplicemente la realtà e quindi andando a produrre qualche cosa che può suscitare delle emozioni anche variabili in funzione di chi le osserva. Devo dire però che io non sono ancora arrivata a questi livelli. Alla mostra di Via Sanzanobi ho portato un paio di scatti che in parte diciamo in qualche maniera mi contraddicono perché uno poteva essere osservato da qualcuno come se fosse una foto natura cosa che non era assolutamente perché voleva effettivamente rappresentare una qualche emozione che avevo provato in quel momento e l'altro era il risultato invece di una delle poche volte devo dire confessandomi avvertamente che mi sono messa lì con la macchina fotografica a pensare una cosa un po' diversa dal solito perché in effetti avevo trovato una foglia consumata dal tempo quindi uno scheletro di una foglia e mi sono divertita da fotografarla per elaborare un'immagine è una cosa semplicissima sono abbastanza semplice nel mio lavoro fotografo quello che vedo sostanzialmente mi rendo conto che se una cosa mi attrae sicuramente perché mi suscita una curiosità oppure mi suscita una qualche emozione Manuela io in base a questo ti vorrei fare una domanda la fotografia si scatta solo con la testa con l'occhio o col cuore o con tutte e tre queste cose messe insieme col cervello ovviamente per intendere l'ordine contenuto nella nostra certo se si dice col cervello significa un po' tutto perché al cervello arrivano le sensazioni visive al cervello arrivano le sensazioni le emozioni che vengono rielaborate quindi indubbiamente è un po' tutto tutto l'insieme perché non è tanto la tecnica cioè la tecnica lo strumento che si utilizza quanto la capacità di vedere un qualche cosa di particolare ecco quando invece si fanno si fa magari un ciclo di foto a tema come nasce l'architettura della fotografia perché spesso banalmente si pensa che la fotografia è uno scatto quindi ritrae storicizza eternizza un attimo un frammento della millenaria storia del mondo mentre quando andiamo invece a vedere le mostre e ce ne sono tante di grande frequentazione per fortuna vediamo che alla base di queste mostre c'è un progetto quindi penso che il progetto ovviamente poi si scinde in tanti piccoli progetti architettonici che sono alla base di ogni fotografia sì in effetti quando si parla di fotografia si possono intendere tante cose il concetto più semplice è quello di dire ho fatto una passeggiata ho fatto un viaggio fotografo quello che qualche volta riesco a fotografare perché dipende il viaggio se lo facciamo singolarmente con poche persone oppure in gruppo che non è la stessa cosa e quindi sono diciamo foto che servono come prememoria fondamentalmente come tante di quelle che ho io viceversa quando si parla di progetti il discorso cambia notevolmente perché significa avere programmato preventivamente quello che si vuole rappresentare allora significa studiare per un certo tempo in funzione del progetto che si vuole che si vuole sviluppare studiare la tecnica che si vuole utilizzare le immagini che si vogliono costruire in funzione di quello che vogliamo raccontare Massimo Sestini che è un grande fotografo un nostro concittadino poche settimane fa ospite del gruppo al quale tu appartieni il cupolone ha detto le lingue per secoli hanno diviso hanno reso incomprensibili i rapporti fra le persone io ho usato la fotografia uso la fotografia come linguaggio universale per farmi capire da tutti e per parlare a tutti è perfettamente vero Massimo Sestini è più che un maestro da questo da questo punto di vista sulla base anche di quello che ci ha fatto che ci ha fatto vedere quello che possiamo anche vedere in questi giorni anche questa mostra che ha portato adesso a Firenze a Santa Maria Novella su Dante beh Massimo Sestini è un è un personaggio particolare perché utilizza anche tecniche non semplici da utilizzare per quello che ci ha raccontato perché sentirsi dire che ha fotografato l'altezza massima della cupola del Duomo dall'interno naturalmente appendendo la macchina fotografica a dei fili di nylon insomma fa abbastanza impressione siamo molto più avvezzi a fotografare non io ma insomma chi lo fa con un drone oppure dall'alto di una torre per e viceversa insomma dal basso verso l'alto ma con sistemi molto più semplici no a parte a parte queste battute è vero che la fotografia diventa un linguaggio universale al momento in cui guardandola si capisce subito che cosa vuole dire non ha bisogno di spiegazioni e in particolare suscita delle emozioni questo è perfettamente vero ecco a proposito di questo noi siamo bombardati ogni giorno nei social da miliardi di scatti fotografici di tutti i tipi ecco in questa giungla visiva come si fa a decifrare e dire questo è un grande fotografo questo è un buon fotografo questo è un mediocre fotografo come si fa a percepire la differenza per noi profani magari poco decifrabile ma per voi addetti ai lavori ovviamente il compito è agevolato non è facile non è facile penso che bisogna esserci educati a capire il valore di certe opere e questo credo in maniera del tutto analoga a altre forme di arte quando io dico che faccio fatica a capire certe opere di arte moderna perché purtroppo è così lo dico perché perché è vero perché non la mia storia dell'arte è rimasta l'arte più classica fino magari ai primi del novecento e non è andata oltre per cui se io voglio capire le cose devo approfittare il più possibile purtroppo quest'anno no ma l'anno scorso l'anno prossimo spero di viste guidate anche a mostri importanti anche ci sono anche qui a Firenze o altrove perché ho bisogno di qualcuno che mi faccia capire il senso di tante cose la stessa cosa penso che sia un po' per la fotografia perché appunto il grande fotografo grande di per sé cioè bisogna vedere cosa vuol dire insomma al di là del fatto di riconoscere cioè di informarsi diciamo e conoscere o riconoscere nomi nomi storici nomi classici che vengono che è possibile scuro è possibile documentarsi andando a sfogliare pregevoli pubblicazioni che che si trovano in commercio e che rappresentano proprio tutta la storia e l'evoluzione come un qualunque altro artista un qualunque anche un pittore direi di concludere questa nostra conversazione con un'esortazione ai nostri telespettatori andate a vedere le mostre di fotografia certamente magari fatevi aiutare da dei sussidi dai cataloghi che troverete in distribuzione o dalle visite ci sono dei gruppi tipo il gruppo il cupolore di Firenze ma ce ne sono tantissimi gruppi fotografici nella nostra regione e anche in tutta Italia aderendo ai quali ovviamente si può partecipare anche a dei convegni a delle lezioni a delle riunioni fra anche delle serate a delle serate appassionate con anche dei corsi propedeutici ad accedere alla lettura della fotografia e questo sicuramente sarà molto utile anche per chi non vorrà fare il fotografo ma vorrà imparare a capire come si legge una fotografia senza altro allora noi ti ringraziamo è stato piacivolissimo averti oggi con noi e speriamo di averti nuovamente ringrazio per l'invito per l'occasione di una tua prossima mostra grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille